Oggi abbiamo tre ospiti speciali qui nei nostri studi Professor Diego Campagnolo, buongiorno prof Buongiorno a voi Poi ci sono Giampiero e Alessia, due studenti del Dipartimento di Economia dell'Università Ciao ragazzi Buongiorno Siete un trio, il trio maraviglia, un po' particolare Avete condiviso un'esperienza particolare ed è quello che venite a raccontarci oggi Sono state due settimane da poco finite per voi a Guangzhou Che è una località della Cina, una città della Cina Dove tra l'altro l'università ha diversi scambi attivi, ha diverse collaborazioni Però voi avete fatto una summer school, quindi siete stati lì per imparare qualcosa Immagino di sì E sono anche molto curioso di sapere com'è andata Com'è andata ragazzi? Bene, è stata una grande esperienza, devo dire Ha servito molto sia a livello personale che universitario, credo Veramente tantissimo Abbiamo seguito un corso di intercultural management con il professor Campagnolo In questo corso abbiamo visitato diverse aziende sia italiane sia cinese da quest'anno È un programma che dura appunto da cinque anni In cui 25 ragazzi del Dipartimento di Economia di Padova Hanno appunto la possibilità di vivere un'esperienza diversa A contatto con una cultura completamente diversa rispetto a quella italiana Ok, siete rimasti più scioccati o più divertiti, più incuriositi Qual è un aggettivo che magari descrive bene la vostra permanenza in Cina? Forse sorpresi, direi Nel senso che ci sono tanti lati che magari uno si può aspettare Immaginando come potrebbe essere la vita in Cina, il lavoro in Cina E altri che invece vanno vissuti per essere veramente capiti Nonostante possano essere raccontati Bisogna viverli veramente Quindi tu sei stato un po' più sorpreso adesso, Gian Piero? A me personalmente ha sorpreso tanto la velocità con cui la Cina sta evolvendo Pensare che una città come Shenzhen da fine degli anni Ottanta Shenzhen è vicina a Guangzhou Si, tra Guangzhou e un po' Si stanno baciando praticamente In pratica da 12.000 abitanti è passato nel giro di 40 anni a 13 milioni Ma la stessa Guangzhou ha 14 milioni di abitanti, perciò è spaventoso Quindi si trova gente per giocare a calcetto, quindi questa è una cosa positiva Diego Campagnolo, prof, tu sei la parte un po' più... Quella con la giacca, quindi un po' più scena Faccio la parte istituzionale in questo momento Com'è organizzata questa Summer School? Che abbiamo capito, si basa molto sugli scambi Forse è il suo punto di forza, azzardo io Si, si, diciamo che è una cosa che è nata 5 anni fa Dentro il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Grazie a questo accordo che come Ateneo abbiamo con Guangzhou E si voleva, diciamo, fare qualcosa all'interno di questo rapporto E abbiamo pensato appunto di organizzare una Summer School Siamo partiti con una settimana Poi abbiamo capito che una settimana era troppo poco E quindi siamo arrivati a due settimane Avendo questa possibilità ci sembrava logico andare a insegnare che cosa Perché dice, cosa andiamo a fare? Non siamo un'agenzia di viaggi Non potevamo andare a fare, come dire, semplicemente una gita I weekend si fa cose più da turisti Però durante la settimana si lavora Durante la settimana si lavora, anzi bisogna lavorare E quindi abbiamo fatto questo corso di Intercultural Management Perché è vero che viviamo in un mondo globalizzato Però le differenze culturali impattano ancora molto Nella gestione delle persone, nella gestione delle aziende Quindi come Dipartimento di Economia abbiamo pensato che questa fosse la materia giusta Da fare poi in loco Le aziende sono contente di vedere sempre persone che Oppure fanno un po' più cose di vetrina Non so come spiegarmi Si mettono a nudo, spiegano veramente Oppure insomma Poi magari diranno i ragazzi qual è stata la loro esperienza nelle aziende Però io credo che siano molto contente Vedo che ogni volta le aziende ci confermano la possibilità di visitarle Ne riusciamo ad inserire di nuove Quindi, no no, un grande entusiasmo secondo me anche da parte loro nel vedere che c'è qualcuno che si interessa Per la storia che queste aziende hanno avuto in Cina Stiamo parlando di aziende che sono lì dalla fine degli anni 90 Grande epoca di delocalizzazioni Da certi punti di vista E queste aziende oggi stanno facendo delle cose fantastiche Quindi segno più anche per questa cosa Ragazzi non so se avete già riflettuto abbastanza Se magari durante il viaggio di ritorno, visto che dura un po' Vi siete presi degli appunti C'è qualcosa che secondo voi dobbiamo imparare dalla gestione Dalle cose che avete visto dalla Cina Adesso tu citavi la velocità prima Gian Piero Però magari c'è qualche altro aspetto che vi ha colpiti Che magari può essere utile sia per chi studia Sia per chi poi comincia a lavorare, aprirà un'azienda, avrà un'attività A forse il modo in cui gestiscono le relazioni con i partner lavorativi Così come con i colleghi hanno un approccio a gestire le relazioni molto più lento Quindi bisogna costruirle queste relazioni e costruirle in maniera, diciamo, nel tempo Perciò si tende ad avere relazioni di lungo termine, non in breve termine come magari può avvenire in occidente E un aspetto di questo guancì che appunto costruisce le relazioni è anche il fatto di dare regali Quindi in Cina è molto importante dare un regalo oppure dare la propria carta, il proprio biglietto da visita Con due mani rigorosamente Con due mani Com'è l'azione? Però bisogna apprenderlo e bisogna leggerlo, quindi dimostrare l'interesse anche nei confronti di quello che l'altra persona Invece da noi avresti fatto una roba tipo da poker Sì, l'avresti mai messo in tasca e cestinato Ho capito Ho capito Senti Alessia c'è questa cosa del corso di cinese che dicevamo prima fuori onda Prima di partire bisogna un po' prepararsi Immagino, io non l'ho mai studiato, ma immagino che non sia la cosa più semplice del mondo cinese Quanto hai studiato? È stato difficile? Che parola ti piace? All'inizio è stato un impatto un po' tosto Perché comunque nonostante siamo abituati magari a conoscere più lingue come l'inglese Il cinese è tutta un'altra cosa Però devo dire che una volta arrivati in Cina è servito veramente tanto E avere la possibilità di parlarlo anche e riuscire a farsi capire è stata una grandissima soddisfazione Loro sono delle persone che ti mettono a tuo agio quando cerchi di parlare il cinese Oppure sono un po' come alcune persone anglofone Che quando parli male sai ti guardano un po' No, no, in generale cercano di capire quello che stai dicendo L'unico problema che avevamo di comunicazione è legato al fatto che in Cina generalmente tendono Proprio per quello che diceva prima anche Giampiero del non perdere la faccia magari A non metterti a disagio quindi se non capiscono quello che stai dicendo magari non te lo fanno capire Quindi ci girano un po' attorno Per cui è tutta una questione di relazioni però no sono molto disponibili Cosa più una forma mentis diversa che bisogna prendere rispetto a noi che mai siamo un po' più Fortunatamente anche cacciaroni su certe cose e ci aiuta Quanti amici vi hanno chiesto di scrivere il nome in cinese queste cose qua? Tanti Non va meno di moda questa cosa del tatuaggio con le scritte orientali Però secondo me oh mai che vada prof si rivendono come tatuatori Sì diciamo proprio mai che vada Diego senti tu sono diversi anni no che vai in Cina In questi anni hai visto che tipo di evoluzione hai visto sia dal punto di vista degli studenti Sia da quello che magari vuole anche la preparazione quindi il mercato del lavoro Qual è la tua impressione? Beh io diciamo che ho questa fortuna da cinque anni Gli studenti hanno visto un interesse crescente Un interesse crescente anche a spostarsi lì per fare esperienze lavorative Io ricordo Ormai è una cosa sdoganata questa qui Sì assolutamente Loro sono molto flessibili anche poi nell'adattamento Fin dal primo anno abbiamo anche fatto degli stagi in Cina Poi a seguito con le aziende per esempio con Luxottica Sì Quindi i ragazzi da questo punto di vista ha grande voglia di imparare Ha grande voglia di mettersi in gioco Una grande evoluzione come diceva Giampietro prima Giampiero prima si vedeva da Si vede nelle aziende no? Nel senso che la possibilità di andare costantemente E confrontarti costantemente con le stesse persone Però ti dà modo di vedere come cambia la Cina Oggi non so mi auguro non ce l'abbiamo più questo stereotipo Ma abbiamo un po' lo stereotipo della Cina come La fabbrica del mondo che sono bravi a fare ma non sono bravi a progettare o a pensare Noi abbiamo incontrato aziende come Magneti Marelli che ci hanno mostrato i cruscotti nuovi delle auto Completamente digitali completamente progettati in Cina Quindi pensati e realizzati lì Addirittura il manager che dice sa una volta chiamavamo l'Italia per farci aiutare Oggi è l'Italia che chiama noi Poi bisognerebbe come dire approfondire però secondo me questa è una frase che dice molto Questo è il trend che individui un po' Però speriamo che ci siano aerei sempre più economici Perché è bello stare in Cina però anche tornare indietro ogni tanto non fa male Voi rispetto a questa cosa dello stereotipo ragazzi come vi siete posti? Vorrei proprio una risposta di pancia se volete Oddio devo andare in Cina La mamma che dice ti faccio un facotto Ti tieni delle marmellate Mangia Meputin Cose del genere no No in realtà mia madre per me si è rassegnata Perciò Perciò sei pugliese quindi il pacco da giù arriva standard In Cina è un po' diciamo più complicato per dirlo però No in realtà devo dire che è stato molto meglio di quanto mi aspettassi Perciò comunque la Cina è una cultura molto consolidata Molto ampia a partire dalla cucina alla lingua per quanto sia difficile imparare È molto affascinante Sì non è facilissimo costruire relazioni con i cinesi Perché non parlano inglese benissimo Perciò questo magari è un aspetto un po' negativo che ho trovato Quindi ci vuole forse un salto ci vuole un po' di tempo Sì insomma la lingua sarebbe un aspetto che faciliterebbe molto Ok Per te Alessia com'erano le tue sensazioni? No devo dire che anch'io sono rimasta comunque soddisfatta all'inizio Magari era un po' più preoccupato per le differenze che ci possono essere Comunque un altro continente Quindi non è come andare e girare in Europa Però no siamo stati accolti benissimo Sono stati tutti quanti molto disponibili Quindi siamo rimasti veramente soddisfatti Professore quando si arriva col biglietto da visita dell'università di Padova Sembra che... Le porte sono spalancate No ma... Registriamo statisticamente che sta andando meglio Quindi... Sì 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 assolutamente Poi la nostra università lì si sta anche espandendo quindi... Siamo gemellati da pochissimo Da ieri credo Da ieri Siamo gemellati anche con la città Quindi adesso credo sia... Non so cosa accambi tecnicamente Ma è un passo in atto No... Siamo accolti sempre Vuol dire... L'università Partner lì su di noi investe molto Perché ci da il dormitorio Ci da la possibilità di girare nelle aziende Sì sì c'è un servizio completo Diego ti chiedo una cosa per chiudere Ragazzi vi ringrazio intanto per le belle cose che ci avete raccontato In prospettiva futura voi che al Dipartimento di Economia siete sempre looking forward Che altri scambi vi piacerebbe abilitare se poteste? Perché magari questo della Cina diciamo funziona va bene lo continuiamo a fare certo Però c'è qualche altra zona del mondo che secondo te Valla pena indagare diciamo? Secondo me... Pensiamolo come sogno Avere una summer school come questa o sul facsimile di questa in ogni continente Noi ce l'abbiamo già negli Stati Uniti Abbiamo già rapporti consolidati anche con l'altra parte Però averne una in tutti questi territori che stanno crescendo molto velocemente Avere queste possibilità di scambio Dare la possibilità agli studenti di fare percorsi itineranti in tanti posti Diego te lo dico subito se ho fatto in Nuova Zelanda mi iscrivo Immediatamente a Economia Faccio il corso di cinese Si aspettiamo, guarda che c'è il test di ingresso però Test di rugby se c'è la Nuova Zelanda Grazie mille Giampiero, Alessia, professore Campagnolo per essere stati con noi Vi mettiamo tutte le informazioni e anche qualche foto Per la prossima summer school quella che sarà Così vi rendete conto anche dei materiali che sono stati fatti In bocca al lupo per la vostra carriera universitaria Grazie 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 Grazie